Ehi, 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 su qua, l'esco! No, terrorista! Che abbiamo franzo in qua! Gridano terrorista, gridano e intanto qualcuno prova a scappare da quello che è un centro di identificazione ed espulsione, ma che sembra a tutti gli effetti un carcere. Sono immagini di una rivolta, girate all'interno del CIE di Palazzo San Gervasio, provincia di Potenza. Immagini girate dagli stessi ragazzi tunisini qui detenuti, perché secondo una recentissima direttiva del Ministero dell'Interno, ora i giornalisti è vietato entrare e vedere come si vive dentro queste gabbie. Ma i ragazzi e gli uomini rinchiusi nel centro hanno fatto uscire, oltre i cancelli e le reti, alte tre metri, il loro grido. Questo è uno dei tre centri messi in piedi da un giorno all'altro in Italia per l'emergenza degli sbarchi a Lampedusa. Un centro nato quasi di nascosto, senza sentire nemmeno il parere della regione che ora chiede chiarezza. Un centro che sorge in un campo dove ogni anno si accampavano gli immigrati che raccoglievano i pomodori nella stagione estiva. Ma ora l'emergenza ha un nuovo nome e per costruire questa prigione sono stati investiti milioni di euro. I reclusi però vivono in condizioni disumane, senza sapere come e quando verranno rimpatriati nel loro paese.